Questi sarebbero la cosca di Ndrangheta dei Gallaccio di Guardavalle nel Catanzarese, quelli con cui un gruppo radicato nel milanese ad Arluno aveva messo su un traffico di cocaina caratterizzato da imponenti importazioni dal Sud America. Stamattina all'alba il blitz nell'ambito dell'operazione Area 51 e l'arresto di 21 persone con le accuse di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. Le ramificazioni del suo delizio arrivavano anche in altre regioni, specie nel Lazio dove la cosca dei Gallace ha preso casa ormai da tempo. I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Milano, Monzebrianza, Alessandria, Perugia, Catanzaro, Roma, Varese, Vercelli e anche in Germania. A dare il via alle indagini, l'arresto in flagranza nel settembre 2015 a Bareggio nel milanese di uno degli indagati che venne trovato con ben 30 kg di cocaina. Tiziana Bagnato per la C News 24.